Ma buon dia a tutti amici di Doppia Frizione Siamo oggi al raduno della scuderia mitica anni 80-90 Siamo in questo momento alla copp di Strambino E stanno arrivando anche le prime macchine Come potete vedere C'è un escort, ci sono un paio di uno turbo, eccetera I killed it, it's murder, go crazy, berserker I killed it, it's murder, go crazy, berserker I killed it, it's murder, go crazy, berserker Go crazy, berserker Shoot em Change the station with a new shit Yeah Shoot em Change the station with a new shit Change the station Change the station Change the station with a new shit Change the station 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 with a new shit Yeah I killed it, it's murder It's murder I killed it, it's murder, go crazy, berserker I killed it, it's murder, go crazy berserker I killed it, it's murder, go crazy berserker I killed it, it's murder, go crazy berserker Intanto per cominciare un grazie di essere tutti qua, precisi Volevamo solo dire due parole, per non rovinare la giornata a nessuno, mi raccomando, è una strada aperta, quindi teniamo un'andatura giusta, non esagerate, non dico andare a 50 all'ora, non dico andare a 200 Le macchine avrete un apri fila e un più di fila Enrico Qualsiasi Perla Ho visto? Ho visto? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.